Eni attraverso Jowl, la sua scuola per l'impresa e Mind the Bridge, con il supporto delle istituzioni locali, hanno avviato la seconda edizione del progetto Ora, Outpost Ravenna for Energy Transition, una piattaforma di innovazione dalla forte vocazione internazionale focalizzata su tecnologie legate al mondo della blue e green economy, che punta a supportare la transizione delle imprese del territorio, grazie a partnership e collaborazioni industriali con start-up internazionali. Il progetto Ora si fonda su tre macroattività sinergiche e complementari tra loro, come spiega Antonietta De Sanctis di Jowl. Siamo promotori dell'iniziativa verso le istituzioni locali, con l'ambizione di andare a creare sul territorio un ecosistema dell'innovazione sostenibile che apporti tecnologia sia all'azienda ma anche a quelle che sono le aziende presenti sul territorio. L'altro elemento fondamentale all'aspetto del ruolo che giochiamo all'interno del progetto è quello di garante di un dialogo con le istituzioni attraverso anche le nostre funzioni interne che ci garantiscono di avere un'iniziativa sempre allineata con quelle che sono le esigenze e le ambizioni del territorio. Infine, il terzo elemento è quello dell'integrazione tra questo hub di innovazione della scuola e tutti gli altri che sono presenti sul territorio italiano. Attraverso tavoli di lavoro è stato dato il via al processo di individuazione delle start-up che meglio possano rispondere ai bisogni delle aziende. Alberto Onetti, chairman di Mind the Bridge. L'idea è quella di cercare di supportare un sistema industriale importante come quello del Ravennate che copre diversi settori dall'energia, la chimica, i fertilizzanti, gestione rifiuti fino a tutto il mondo della logistica, cantieristica e attività portuali per cercare di aprirlo all'innovazione. Oggi purtroppo l'innovazione viaggia a una velocità spaventosa e non c'è nessuna azienda al mondo, qualunque sia la dimensione, il paese che sia in grado da sola di trovare soluzioni.